Edir Messa ha appena pubblicato questo testo, il ginocchio, che abbiamo scritto in collaborazione. Quello che mi piace dire è che è un testo corale, proprio io e il dottor Caserta abbiamo svolto un'azione del direttore d'orchestra di un gruppo che è quello della riabilitazione dell'istituto ortopedico Gaetano Pini CTO di Milano che ha contribuito a sviluppare e speriamo sviscerare bene tutta la patologia del ginocchio. I contenuti? I contenuti sono stati svolti sulla base della partenza dalla patologia e a sfruttare tutta quella che è la conoscenza dell'equip del Gaetano Pini nella gestione del paziente, quindi vengono sviscerati i progetti riabilitativi individuali sia nella parte medica che nella parte riabilitativa. Ci sono numerosi esercizi, ci sono numerose foto, c'è un'ampia iconografia e un'ampia anche documentazione video che illustra gli esercizi che sono stati proposti. Esatto, 60 filmati insieme a questo testo, quindi scaricabili dal web ovviamente acquistando il testo, ma mi piace ancora dire una cosa, ovvero sia che il testo, grazie allo sforzo che l'editore ha fatto e di Hermès, sarà quello di una traduzione in lingua spagnola, di una traduzione in lingua inglese per i mercati sudamericani e per i mercati americani e alla recente mostra di Francoforte i diritti sono stati acquistati anche dai coreani e anche dagli svedesi per una traduzione in coreano e in inglese. Speriamo che il testo piaccia, è sicuramente stato un grande sforzo.